Quella sera Maurizio Camardi e Francesco Garolfi suonavano a Padova, al Tolarasa, da Luca. Sapevo che avrebbero eseguito un nuovo brano, Trouble, e mi diedi una mossa per arrivare in tempo. Il ristorante era pieno come sempre, bella gente che aveva voglia di ascoltare dei buon blues con la pancia piena. Maurizio come sempre aveva il suo codazzo di ammiratrici. Luca si sedette al mio tavolo con del Calvados d'annata, foie gras e altre delizie. Ero pronto a goderne una bella serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.